L'8 marzo è il giorno internazionale dei diritti della donna. Potrei parlare di donne famose, però per me è mia madre, perché è una donna che ha saputo lavorare e far crescere i suoi bambini. Per me è una super donna. Sono orgogliosa di poter rappresentare attraverso i miei sociali le ragazze plus size e mostrare che possiamo essere plus size, ma essere una vera donna, bella, bene nella sua mente, bene nel suo corpo. Sogno di diventare come nessun'altra persona, perché anche se ci sono delle donne che mi ispirano ogni giorno, ho capito che vivo e viverò sempre con me e io sogno di diventare una versione migliore di me. Il vestito che rappresenta l'empowerment femminile sarebbe il vestito blazer, perché è molto chic e rappresenta il potere delle donne. Quello che mi rende felice semplicemente è una vera spiaggia, il sole, la mia famiglia.